A quanti di voi è capitato di avere un'auto un po' datata come questo Fiat Panda e volerci dentro un po' di tecnologia e magari farla diventare anche un cinema? Ma vediamo! No, non vi sto mentendo, questo perché grazie a questo schermo potremmo utilizzare Android Auto, Apple CarPlay, il Bluetooth, la chiavetta USB o addirittura, grazie all'autolink, vedere lo schermo del nostro smartphone. Ad esempio, se vado su Spotify, YouTube e così via, posso guardarmi un video, ascoltare un po' di musica e così via, davvero molto molto utile.